I ragazzi dell'Istituto Vigano di Merate propongono calendari contro la violenza sulle donne. Alice ci spiega come è nata questa iniziativa e di che cosa si tratta. I professori ci hanno proposto di realizzare dei calendari per l'associazione L'altra metà del cielo di Merate e abbiamo realizzato due tipi, uno prettamente grafico e uno prettamente fotografico. In quello fotografico sono rappresentate tante ragazze con la scritta Non sei sola in tutte le lingue del mondo per andare a far capire che non importa di che nazione si è ma comunque non sei mai soli, bisogna sempre stare uniti e rinunciare. In quello grafico invece c'è una parte in cui si mostra la violenza di una relazione, le catene e tutto quanto e invece dall'altra parte c'è la relazione libera, la libertà dopo aver rinunciato e aver fatto sentire la propria voce. Tutti il ricavato che arriverà da questa venta dei calendari verrà dato all'associazione L'altra metà del cielo e la telefono donna. Grazie a tutti.